La crisi ha spostato la domanda e l'offerta. Le persone hanno cambiato il modo di vivere e bisogna tenerne conto, bisogna aiutare le imprese, gli imprenditori creativi a muoversi sui nuovi business che sono quelli che sono nati, perché ce lo possiamo dire, che sono nati diversi. Sono processi di lungo termine, l'emergenza è troppo dura. Sì, è un errore. Vanno aiutate le imprese, sposteremo alcune scadenze, come quella di Sì.